Sono Giovanni Di Martino, sindaco del comune di Niscemi, un comune nel sud della provincia di Caltanissetta. Il mio comune è aderito ad Avviso Pubblico perché Avviso Pubblico è una rete di comuni e di enti locali che promuove la cultura della legalità e l'affermazione nella prassi amministrativa dei buoni principi della legalità. Riteniamo assolutamente importante che ci sia una rete di comuni che ogni giorno possa concretizzare l'affermazione della cultura della legalità e per questo abbiamo aderito a questa grande e importante organizzazione. Oggi è importante che nella qualità di sindaco della mia città sia qui perché la mia città è stata ferita dalla presenza della criminalità organizzata tant'è che per due volte nel giro di dieci anni ha avuto sciolto il Consiglio Comunale per condizionamenti mafiosi. Abbiamo intrapreso un percorso di cammino di speranza, di rinascita democratica per l'affermazione dei principi della legalità nel nostro comune ed era assolutamente significativa la nostra presenza qui a Bari insieme a tante altre realtà di enti locali, della società civile, delle forze sociali, politiche. Non potevamo mancare.